Musica Ma dove sono tutti? Non lo so, ma che sta succedendo? Non sembra esserci nessuno Ragazzi, qualcuno di voi ha per caso portato di mano un cellulare, cercato A me non funziona l'internet Ma come niente, è la fine ragazzi Ragazzi, non dite così È importante rimanere compatti finché non capiamo la situazione E se andassimo a cercare nelle nostre case? Ottima idea, se è successo qualcosa lo capiremo Grazie mille Grazie mille